Mi intonate i cori della curva a grigio rossa, ragazzi. Sono un giornalista, ho un giornale online e pubblico su YouTube. Vorrei, non vi riprendo. Guardo. E la foto di quella faccia qui? Eh, allora? Ti piace quella faccia qui? No. Sai chi è? Sì, certo. L'ho intervistato. Ho preso nel culo lui e il suo fratellino. Certo, certo. Uno è dell'intono ma non mi devi riprendere. No, ne vorrei i migliori dieci. Non la riprendo, inquadro l'Avi. Mi dica qual è il più... Anzi, inquadro la piazza. Come si chiama? Solo il nome, se posso. Solo il nome. E spero abbia 18 anni. Ecco, questa è la piazza, quel che resta. I cori più... Come se fossi alla curva. Questo volevo. Vieni con noi, c'è la cremonese. Uno. Secondo. Siamo sempre con te. Solo la mattina scede. Ovunque andrai sale. Cremone di vicere. No, 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 no. Mi sono commosso, ragazzi. Bene. Ah, quanti ne vuoi? Ma sei cremonese? Sono di reggio, ma no. Che cosa sono io? Dieci, no. No, il terzo. Se ne facciamo tre, poi dobbiamo andare. Va bene. Terzo. Tu non chiedermi il perché. Non ci sono nemmeno che è. Sola non la lascio mai. Faccio di tutto per lei. Cremonesa reale. Cremonesa. Cremonesa. Bravissima. Andiamo avanti. Beh, anche senza intonate, se mi dite le parole, se non volete cantare. Non vengo, sono di reggio, vengo solo stasera, grazie. Vabbè, ma se sei dalla Reggiana puoi venire. Ma non è questione di Reggiana, sono già lavoro gratis e mi fate questo piacere. Vi sono debitore. Tornerò forse qualche partito. Ma le parole le trovi su... Ma non mi interessa, dette da voi hanno un sapore diverso. Sì. Beh, certo. Tutti mi dicono, il giornalista di professione, gratis e a mie spese, preso in giro da una marea di gente, no, è così, non parlo di volpe, le forze dell'ordine non mi hanno lasciato, volevo andare su, anche adesso, anche adesso ragazzi, hanno chiuso, vorrei, vengo una volta, volevo andare su. Anche vorrei andare su, però. No, è diverso, voi non fate. Però dai, sei già bravo, che sei di Reggio, vieni a Cremone e ti vesti grigio e rosso. No, ma non è un caso, è un caso. È un caso, però è un caso giusto. Andate avanti con i cori, almeno le parole. Ah, però, però, bandiera. Non me lo dite. No, basta, va. Beh, mi regalate una sciarpa? Sì. La sciarpa non ci regala nessuno. No, no, no. Non volevo essere offensi. La sciarpa si conquista, bello. Questa è una bella, questa è una bella massima. Complimenti ragazzi. Come vi chiamate, me lo dite? Stefano. Ah, ti puoi. Eh, bravi, bravi. E forte Cremonese, dimelo te per una volta. Eh. Come no, sei già di stato forte Cremonese. Non lo dico perché sono... Perché devi dirlo che sei qua a Cremona. No. No, no, mi seri no, porco Dio. Dai, dì forza Cremonese. Sono commosso... Di forza Cremonese. Sono commosso dai volti cori. Di forza Cremonese. Preferisco fare un coro. Me lo... No, sì, forza Cremonese. Forza Cremonese. Ok. Forza Cremonese, alese, sempre di noi, seri. Cremonese. C'era... questo volevo. Questo volevo E questo ho avuto È stata una serata straordinaria Di emozioni Eccoli là Scatenati Speriamo che non abbiano danneggiato La nostra macchina Mi regala Bandiero sciarpa Sembra il mago Ronzo Grazie comunque Quando saremo ingradinati La curva su D'Arminio Favalli Minio Favalli Leggendario Grazie Grazie Vi posso rubare un piacere finale Mi hanno fatto tre cori Me ne fate altri Sono di Reggio Emilia Di dove sono Chi sono non importa Sono un giornalista di professione Racconto il mondo dei tifosi Mi piacerebbe anche inquadrandovi Che mi intonaste I migliori dieci Soprattutto quelli antichi di cori Vengo solo stasera Sono stato alla Pergolettese Tre anni fa Quando hanno visto Che qualcuno Voleva picchiarmi No dico Quando vedono uno così Non me l'aspettavo A Pergolettese Dove è finita Il Pergocrema Il Crema Pergo In D? In D? Si Sei salvato In Lega Pro In Lega Pro In D? In Lega Pro In Lega Pro È uscito O è passato? Con chi?